Prosegue la protesta dei lavoratori della piscina comunale di Montorio Albomano gestita dall'associazione sportiva MSP Abruzzo senza stipendio da dicembre che hanno proclamato da sabato mattina lo stato di agitazione per iniziare uno sciopero d'oltranza. I 21 lavoratori, a cui si aggiungono i 60 stagionali delle colonie estive che non hanno percepito i compensi per i mesi di giugno, luglio e agosto 2015 hanno deciso di bloccare l'accesso all'impianto sportivo chiudendo con i lucchetti i cancelli. Da lì questa mattina è partito un corteo dei lavoratori guidato dal segretario della Filca Cisli Teramo Giancarlo De Sanctis diretto verso il municipio per incontrare l'amministrazione comunale. Amministrazione comunale che si è detta subito disponibile a risolvere questa problematica, come? Certo, questa è una situazione che non ci piace noi la vogliamo risolvere subito per due questioni uno per ripristinare il servizio perché è un servizio che va a coprire un ampio territorio quello della piscina comunale con tutte le sue attività è una perché è una struttura grande, funzionante, che ha un numero di accessi elevati e quindi dobbiamo comprendere il perché questi lavoratori non vengono pagati a noi interessa ripristinare il servizio e con questi lavoratori è subito perché non vengono pagati nonostante gli ingressi, gli incassi ci sono della piscina? Allora, questo è un discorso che adesso affronteremo subito con la società che gestisce tra l'altro da tantissimi anni, dal 2004, l'impianto sportivo quindi lo affronteremo subito noi nel frattempo abbiamo comunque inviato una lettera di diffida alla società affinché ripristini il servizio grazie! Grazie!